Questa è il fuoco che flugge tanto, vuole dire, e quindi fa l'aria. Nonna previ! 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 Ma ancora non si vede niente, non vedi. Ora! Che fai? No, no, no! Un'altra! Un'altra! Non sa quanto fuoco c'è nell'acqua? Ora non sai quanto fuoco c'è nell'acqua? Ora! Allora tu, dai, vedi, c'è l'acqua. Vedete cara di sotto. Un'azzarro lì. Ma ancora non mi piacciono. Ma perché? Trappano tutto. Mamma mia! Vedete che ti cade lì sotto. Vedete che ti va avanti qua. Avanta mia! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti